Oh Amsterdam, qua c'ero io con Giulio, questo è il vlog mio di Giulio, guardala, Amsterdam cacchio, è così eh, qua su c'è, chi è questo? Oh sembia un po' mafia Grafica gioco questa, questo non è CGI, grafica gioco Oh ci sono passato qua io Li metterò a capo Figo cacchio Oh è fatto, ragazzi qua ci sono stato io Vediamo se c'è la mamma di Jack Oh? Vediamo se hanno fatto le case storte apposta Eh, eh, qua signori di Activision però dovevate stare, dovevate farle un po' più storte le case eh Il dettaglio, no non ho suffruito Allora no che spettacolo però ragazzi, è che è stra precisa comunque Visuale confermata Non devono vederti armato Vediamo se si separano Ok, uno si allontana Viene verso di me Sto volando raga Io prendo questo Pochi ciclisti eh Questo c'è una farcia Gas neutralizza la guardia vicina ai canali Come stai, tutto bene? Hai bevuto Hai bevuto eh Guardi a terra, ponte libero Perfetto Che cazzo sta facendo? Mario Quello si è fatto una cannetta raga eh Una cannetta storta Dovano passare i ciclisti però eh Bello però ragazzi eh Cioè è fatta, è fatta benissimo eh Oh questa la conosco Ci siamo eh E come si andava? Si andava a casa? Come si andava? E ti senti una cosa? Cosa ci serve un divertivo Flaming Dragon Lui è Bruno Mars È Bruno Mars È Bruno Mars lui Oh Ha capito? Dove va qua? Che cazzo sarebbe? Che è? Granata esca Funzionerà Come granata esca? Appena scoppierà il panico Il cartello cercherà di spostarlo E qui entro in gioco io Con te Gas Tre secondi Ah mo succede un casino raga Ok Va bene Sshh Dormi 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 Antisgamo eh Antisgamo eh Occero uno Obiettivo sicuro Stiamo arrivando Oh Ah Urco due Asci loro Portaci loro Che danno fanno Regà Oh Bello come viene la pistola Comunque eh Che si muove tutto L'addormento 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 Vedrà quello Fortarelli sti bottarelli È più forte del Giacco O Bruno Mars Uolac Non ho le placche Non ho le placche Dai 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 Scopriamo da dove vengono sti missili Secondo me no Azzo Azzo Interrogatorio ragazzi E' quello del Brazzers Di nuovo lui Boom Gameplay di gioco Messico Uh Ci si sposta Da Amsterdam Si va al me Belli tutti sti cambi di scena Siamo in Messico Siamo in Messico Signori Oh quello c'ha gli ocli Oh quello c'ha gli ocli Di occhiali Oh c'ha gli ocli Ce l'ho pure io Bibro Ai 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 Laggiù Ok si parte il gameplay Bella Bella sta missione così Cazzo Siamo in Messico Siamo in Messico eh Traiusa e Messico Dove c'è la Cambio di tattica La barriera Corallina Conto quattro nemici Spegni la torcia Visuale su Hassan In cima al muro Merda Ha attraversato Non possiamo perderlo Dobbiamo ingaggiare Libero Libero Buono 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 Si muove No che figo il muro Ma non rompe le valle Tu avverti l'FBI E contatta la polizia locale Facci a Nava Facci a Nava Dai Namo E stiamo qua la barriera Arrivo 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 Rodolfo Sono Rodolfo fighe Ragazzi in caso dovessi scappare Se Giulia rimane incinta Eh c'è tutta la città Dell'area E noi lo seguiremo Forza Ah si è in Messico Così Senza giurisdizione Signori Si va Stiamo andando Ragazzi Il cartello Il cartello lo porterai In un nascondiglio in città Dobbiamo trovarlo Ricevuto Qui a San Ha molti più amici di noi Prudenza Mamma mia Sì 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 C'è Chironi Gringo Levate Leva Forza Ho sentito qualcuno Leva 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 torni dentro torni dentro contatto che spettacolo rega mamma mia ci penso io ci penso io non rò dai sono abitazioni civili e qui non abbiamo autorità e lo so lo so forze speciali fermo indietro fermo che figata cazzo che li devi ferma pazzesca bella pure sta missione l'MP5 è troppo bella come spari sto cane sta a fare un casino vediamo se è buono la ruota ok buoni fermi fermo fermi eh polli civili a terra gacchio ok azzo azzo non abbiamo armi non abbiamo armi non abbiamo armi non abbiamo armi colonnello Alejandro Vargas forze speciali cerchiamo un terrorista Gomez fermati sono le forze speciali ok ok sei occupato di voglia porco due porco due porco due mi sono cacato sotto rega bastardi alzali alzali che arrivano a stradolfo andiamo controlla dentro io blocco le uscite oddio santo vado dentro arrivo 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 entro 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 due i sublimani sto dentro sto dentro prese le flash ma sta musica oh la musichetta pazza porco zio ragazzi mi hanno levato una vita sentire i passi sentire i passi c'è gente sopra ferma no e no se è abbassata a prendere l'arma il mio riflesso è stato istintivo ma signorina ma lei cosa combina ma io che l'avevo detto oh abilisitano a questo subito in testa non ti sparo non ti sparo ti chiedo bucio però ti chiedo il bucio fatto io provo tutte le armi eh provo tutte le armi bello bello laughetto ok sono all'ultima porta primo piano non a scala lascia le bifo sto balordo ok che spettacolo mamma mia permesso salve no no oh lo uccidono no dai no non può non può morire così bruciate tutto ma Cold Brothers sei un terrorista pendeo Cold Brothers un soldato e sono qui per combattere dai non lo può uccidere come deve bruciare infame vedo del fumo che succede deve bruciare come Rodolfo sto intendo no colonnello per me è finito Rodolfo Ascolti Hassan è fuggito lo stanno trasferendo Rodolfo qualcosa attraversa l'Atlantico c'è una nave trasporta qualcosa bravo dai dai non lo mollare a Rodolfo 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 io non ti mollo non ti lascio oh Rodolfo andiamo ehm sì piano piano stiamo scoprendo tutto il personale necessario non possiamo iniziare una guerra in Messico certo che no Philip Graves e la sua shadow company forniranno supporto le loro regole d'ingaggio ci daranno un po' di spazio di manovra in più bene signore troviamo a Sam l'episodio di urno oddio ma magari eccolo bene adesso di urno solo un pezzo chiamami Sob Sob Laswell ti ha chiamato Ghost io credo che preferisca a farsi chiamare grazie ma questa è la città delle anime non sono mai stato in Messico non è in Messico e la Sam la mia base è vostra bene dove è a Sam rifugio del cartello a 10 chilometri salite mamma mia i video sono troppo belli posso dirvi che mi accollerai una serie su tipo Prime o Netflix tutta fatta così proprio in CGI parli spagnolo? no per ora favelas signori qui è normale il possesso di armi è competenza della polizia e dov'è la polizia? la Salmas ha un problema molto serio ci sono pochi tutori della legge e quelli che resistono alla corruzione che spettacolo qua SOP è bello non un parembambino d'altra parte ci parte ci va mamma mia che arma è? ma ragazzi questa M4 è bellissima bello sto mirino sto mirino su Warzone sarà una bomba che è un 2,5 che spettacolo ragazzi andiamo 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 ma è il rumore il rumore ragazzi posso saltare qua sopra? no ok un KO2 ragazzi ma che roba è raga ma che roba è oddio il P90 bello un culo insieme insieme vado entro un KO2 un KO2 stanza sicura bel lavoro nessuna traccia di assol vado io vado io vado io è chiusa? un attimo vittor 2 qui 1 1 guarda come mi ha fermato questo sembra bello forte eh bellissima ambientazione guarda come entri guarda come entri Warzone cazzo ah ma sta cosa che ecco la ricarica ci farà morire un botto di volte che devi per forza finire di ricaricare forza Cuzz è la sua bandiera è stato qui Alejandro aveva ragione comandante arriva l'esercito oh merda cosa c'è? esercito sono arrivati i rinforzi negativo 0-3 ritegare subito che si fa? compriamoli fatto questo si va vuoi che attacchiamo il cazzo di esercito come l'esercito ce lo droppo al soldo del cartello ok oh lo scarra madonna mia il minino è oh ma quanto ma quanto rincula oddio no lo scudo no ah si rompe ok si rompe si rompe nido 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 marco 2 una battaglia vera oh ma i dei ricarico ricarico il craccato bronco 2 ricarico ricarico il minino il minino è troppo bello ripiegare 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 apri 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 sta porta ma mi esci da qua orco 2 via da qua 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 che spettacolo gacchio oddio la mappa questa ambientazione me la collerei ma l'audio l'audio la cosa più bella che c'è secondo me sono finiti andiamo conosci questi sentieri molto bene ma riconosce anche l'esercito che spettacolo cazzo mamma mia mi servono munizioni mi servono munizioni bravo dammi munizioni dammi munizioni grazie per le munizioni andiamo andiamo orco 2 non fermiamoci di qua oh la montagna blocca le comunicazioni il tuo uomo è riuscito a mandare il messaggio che le mo arriva 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 ricarico ricarico sembra non survival è vero sembra non survival il film è vero avete mai visto il film avete mai visto il film non survival è vero ma ma le armi le armi ragazzi le armi ragazzi guardate guardate l'arma ragazzi mamma mia voglio le skin voglio già le skin siamo sicuri come dobbiamo saltare grande rodriguez che spettacolo come cecchini da lì si può salire più in alto ok salgo eh no ancora no devo andare per su dobbiamo arrivare al fiume trovato ricotteri scucia ricotteri ricotteri si portiamoci in posizione di tiro ricorderemo di sorpresa da che parte bello bello per adesso per adesso tanta roba ma come già sta a sparare perché sta a sparare non survival solo action libero sto merino è pazzesco libero supera il pendio ai rumori oh che spettacolo che spettacolo la comunicazione non è arrivata hijo di putta eh quell'acqua là sotto ci si va là sotto ci si va ci si va là sotto si vede che è giocabile quel posto che bella sta missione ragazzi ma che spettacolo eh sono pericolosi sì ma che figata no che spettacolo no no rodriguez rodriguez rodolfo a me salì ah eccolo non ho la meccanica di appende di appende quando ci si appende oh oh cazzo la musica fa tanto è scivolata bello wow che figata oh cazzo no no way wow l'arma bagnata guardate l'arma bagnata guardate l'arma bagnata ma no way no way ragazzi no way quanto comunque vedete in un gioco mettere una cosa come l'acqua talmente scontata quanto aumenta le variabili di possibilità per lo sviluppatore girarci intorno tantissimo cioè c'è l'acqua di solito arrivi là l'acqua di si blocca che invece mo metto le stose qua c'è devono fallo tutti ragazzi devono svegliare ora basso sto basso sto basso ghost spara figlio mio si muove da solo per la corrente ragazzi si muove da solo per la corrente il pg mi si muove da solo bello però è bassa qua l'acqua devono andare al sasso devono andare al sasso che spettacolo ci penso io ricarico la bomba mamma mia ragazzi è sempre un piacere ok lo shift è bello bellissimo comunque la campagna mi sta piacendo adesso per adesso 9 non ho visto manco bug pesanti vediamo adesso cioè non ho visto bugoni pesanti capito ce la fate a prendere stancano un po' di aiuto dall'alto tutti i bagnati adesso becchiamo quel bastardo dai ragazzo ingaggiamo il bersaglio c'è da uno chiudo